Io più pazzo perché vado in Coppa della Mula facendo questa pazzeria. Che sta fa? Rimbambido? Ah, che? Non ho capito. Che cosa? Che guarda che? Questo va per la televisione eh? La televisione argentina e la televisione dell'Italia. Pure per la Romania. A dove, Chapo? Ah, da lì. Ho capito altra cosa io. E a dove? Ma tu sei pazzo.